Usa la tua tecnica per portarti ad uno stato rilassato di coscienza. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti! Dichiara il tuo intento di portare pace e guarigione alla situazione in Iran. Visualizza una colonna di luce rossa che emana dal sole galattico centrale e poi scende verso il tuo corpo e in profondità nel centro della terra. Grazie a tutti! 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 e guarisca tutti gli altri conflitti in tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiedi alla presenza della Dea femminile divina di dirigere le energie di pace e armonia verso tutte le situazioni irrisolte riguardanti il conflitto iraniano e tutti coloro che sono coinvolti in questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lascia che queste energie fluiscano in avanti e guariscano tutti gli altri conflitti in in tutto il mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.